Questa mattina nella sala consigliare del comune di Pordenone, il sindaco Claudio Pedrotti ha consegnato il sigillo della città a Yashmina Hadra. Lo scrittore algerino, tradotto in 42 paesi con 40 milioni di copie vendute, è protagonista della 22esima edizione del Festival Dedica, attualmente in corso a Pordenone fino al 12 marzo. Il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. È un momento, ve lo ricordo, che non è semplicemente simbolico, non è che diamo questo sigillo e basta. Noi vogliamo che questi signori, lui l'ultimo, anche lui si trasformi in uno degli ambasciatori, dei nostri ambasciatori in giro per il mondo e che dica agli altri che cosa Pordenone è, che cosa Pordenone è capace di fare. Nella stessa giornata avere le scuole, le scuole superiori che dedica, coinvolge, sia da un punto di vista della grafica, sia da un punto di vista dei testi, per avere questo contatto diretto con questo futuro ambasciatore, alla fine chiude ed ha appunto il sigillo alla giornata. Grazie ancora Dedica per queste possibilità che offre a Pordenone. È uno, di fatto, dei gioielli che la nostra città possiede. Facciamo in modo che questo tesoro si conservi nel tempo e godiamoci ancora una volta la festa che oggi abbiamo qui nel nostro Consiglio Comunale. L'autore, onorato del riconoscimento, ha dedicato una breve poesia alla città di Pordenone. Si rinnova così il rito del prestigioso riconoscimento assegnato a persone che onorano l'alto senso del sociale, della cultura e della politica.